Mentre usciva mi ha detto qualcosa di strano, un po' avarese. L'ho fatto, anche un attimo, una scuola che non è venuta, che si è messo un attimo, ma mi pare che è andato in giro, lui non conosceva già. Tonnellate di droga per un valore di vendita di 23 milioni di euro, poi armi da guerra, tra cui persino bazooka e bombe a mano. I craminieri di Monza, coordinati dalla DDA di Milano, hanno arrestato 30 persone, 26 italiani e 4 marocchini per associazione finalizzata al traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, illecita detenzione nonché porto e cessione di armi, riciclaggio e autoriciclaggio, contestati complessivamente agli indagati 221 capi di imputazione. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dalle prime ore dell'alba delle province di Monzebrianza, Milano, Como, Pavia, Reggio Calabria, Catanzaro, Messina, Palermo, Trieste e Udine. L'oro stupefacente proveniva dalla Sud America, prevalentemente dall'Ecuador e dalla Spagna, nascosto nei container nel porto calabrese di Gioia Tauro, per giungere in buona parte a Milano. L'associazione aveva la base operativa nel capoluogo Lombardo, dove uno dei principali indagati, una sorta di broker, si occupava di mantenere tutte le relazioni per concludere gli affari di droga, tenendosi comunque in contatto con i complici calabresi indispensabili per l'estrazione in modo sicuro della merce dal porto. L'inchiesta ha consentito di ricostruire innumerevoli compravendite di stupefacenti per un totale di 3.051 kg di hashish, dal valore alla vendita di circa 12 milioni di euro e 374 kg di cocaina, pari a 11 milioni di euro. Parallelamente al traffico di droga è emerso un illecito commercio di armi da fuoco comuni e da guerra, mitragliette Uzi, fucili d'assalto AK-47, Colt M16, pistole Glock e Beretta, nonché bazooka e bombe a mano MK2 Ananas. Gli indagati acquisivano le armi da un fornitore monzese condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e l'associazione mafiosa, ma beneficiante di periodici permessi premio durante i quali faceva da intermediatore per le armi. Le indagini iniziate nell'estate del 2020 sono state portate avanti con numerosi servizi di pedinamento anche all'estero e l'osservazione sul campo, resi indispensabili dall'utilizzo quasi esclusivo dei telefoni criptati da parte degli indagati, da cui il nome dell'operazione, Cripto. La droga veniva venduta con la complicità del supporto di appartenenti a una nota famiglia di andrangheta da tempo operante in Lombardia, il Bellocco di Rosarno. L'indagine ha ottenuto un rapido sviluppo con l'acquisizione, mediante il canale di collaborazione Eurojust, delle chat di dialogo tra gli indagati estratte in chiaro dalla piattaforma Sky e CC su cui operano i telefonini criptati nel corso di una pregressa operazione internazionale di polizia coordinata da Europol che ne aveva battuto le barriere di codifica. L'operazione di servizio di oggi conclude un lungo e meticoloso lavoro investigativo che attraverso ordinari tecniche di polizia giudiziaria e la decodifica di messaggistica criptata utilizzata dagli indagati ha permesso di ricostruire numerose attività di importazione dalla Sud America e dalla Spagna, nonché dispaccio sul territorio nazionale, di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, complessivamente oltre 3 tonnellate di ascis e oltre 370 kg di cocaina. Il servizio peraltro curava anche l'approvvigionamento di armi comuni da sparo e da guerra. Di qui i 221 capi di imputazione che hanno interessato gli indagati oggi colpiti da misura cautelare. La afferrata alle spalle le ha palpeggiato le parti intime, arrestato 53enne per violenza sessuale. L'uomo è recidivo. L'aggressione è avvenuta martedì 20 giugno a Burago di Molgora. Una cinquantenne stava camminando in strada nei pressi della propria abitazione quando, all'improvviso, si è sentita afferrare alle spalle e la mano di uno sconosciuto le ha toccato le parti intime. A quel punto la donna ha urlato allarmando alcuni passanti ed il maniaco, mollata alla presa, scappato a piedi, rifugiandosi all'interno della propria autovettura posteggiata nelle vicinanze. La scena è stata notata da un inquilino che si è affacciato sentendo le urla e ha chiamato il 112. I carabinieri della compagnia di Vimercate hanno immediatamente individuato l'uomo che nel frattempo si stava allontanando, bloccandolo. Terminati gli accertamenti, è stato dichiarato in arresto e portato nel carcere di Monza. Il 53enne era già noto ai carabinieri di Vimercate, poiché nel dicembre del 2019 a Oreno aveva afferrato alle spalle e palpeggiato un'altra donna, una 26enne. A seguito di quegli episodi militari della compagnia di Vimercate avevano invitato eventuali altre vittime a presentarsi in caserma per denunciare nove le testimonianze, tra cui quelle di due minorenni di molestie avvenute in meno di dieci giorni tra Monza, Vimercate e Concorezzo. Si erano aggiunte alla vittima che lo aveva fatto arrestare. Tutti eventi di cui è stato riconosciuto colpevole, per i quali è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione, è stato scarcerato lo scorso dicembre. I carabinieri ora stanno indagando su alcuni episodi avvenuti a Vimercate e nei comuni vicini agli ultimi mesi e rinnovano l'appello ad eventuali altre vittime a presentarsi alle stazioni di carabinieri per denunciare l'accaduto. Sorpreso a rubare all'interno di uno spogliatoio dei medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, si era intrufolato come se fosse un paziente qualsiasi, dirigendosi nel reparto di pneumologia, dove però è stato preso con le mani nel sacco. In manetta è finito un sessantenne, originario della Sardegna, senza fissa dimora, con precedenti specifici. Ad arrestarlo ai poliziotti della squadra volanti della questura di Monza è accaduto venerdì sera. Gli agenti sono intervenuti in corsia dopo che un vigilante e una dottoressa del reparto avevano segnalato la presenza di una persona sospetta. Dalla borsa del medico riposta nell'armadietto dello spogliatoio del reparto era inoltre scomparso il portafoglio. L'uomo, che nessuno aveva mai visto prima e che chiaramente non era un paziente, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. In tasca aveva l'aria furtiva, il portafoglio rubato alla giovane dottoressa specializzanda che ha subito sport o denuncia. Sussistendo la fragranza del reato di furto, il sessantenne è stato arrestato e portato in questura. Senza fissa dimora, alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era già finito in manette per tentato furto aggravato il giorno prima, fermato dal personale del commissariato Monforte Vittoria di Milano. Processato per direttissima, l'uomo è stato condannato al divieto di dimora nelle province di Milano e Monza e Brianza. Ha provato a portare via il monopattino a un ragazzo, nei guai un 24enne palestinese. La polizia è intervenuta in via Magenta a Monza, dove era stato segnalato un tentativo di furto. Giunti sul posto, gli agenti della volante hanno notato due ragazzi di origine sudamericana che trattenevano un altro giovane, anche lui straniero, con la maglia strappata e un monopattino. I poliziotti, dopo aver preso in custodia il soggetto col monopattino nell'averlo assicurato all'interno della vettura di servizio, hanno chiesto cosa fosse successo ai due ragazzi sudamericani. Uno di loro, hanno raccontato, era stato vittima di un tentativo di furto da parte del ragazzo fermato. Era in piazza indipendenza, in compagnia del fratello. I due hanno rincorso il ladro, che si è nascosto all'interno di alcuni box di via Magenta. Ma non è servito. Il giovane, allora, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha cercato di sottrarsi alla presa del proprietario del monopattino, colpendolo più volte al petto e al volto. Ne è nata una colluttazione, durante la quale è stata strappata la maglietta del ragazzo fermato. Sentiti i fatti, i poliziotti hanno accompagnato il giovane in questura per l'esatta identificazione. Il ragazzo privo di documenti ha detto di essere marocchino, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, è risultato in realtà essere di origine palestinese, già arrestato nel 2017 per possesso di documenti falsi, nonché destinatario di un ordine del questore di Udine, a lasciare il territorio nazionale. Il 24enne è stato dunque arrestato in flagranza e portato in carcere a Monza.